come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina quindi sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità lo dico per i nuovi iscritti che chi già mi segue lo sa questi video sono un po più lunghi perché prendo le notizie quelle brevi della settimana li riporto all'interno di questi video e questi video escono tre volte alla settimana lunedì mercoledì e venerdì prima di cena vi spiego bene tutto quanto quindi mettetevi comodi prendete carta e penna calendario perché vi devo dare delle notizie che appunto riguardano un po delle scadenze un po delle altre informazioni prendetevi nota così non vi perdete i pezzi ma iniziamo subito sennò poi diventa lunghissimo e non lo guardate più quindi partiamo subito con la prima notizia oggi vediamo quali bonus e si possono chiedere sulla casa esistono infatti due tipi di bonus e riguardano proprio l'affitto dell'appartamento il primo bonus affitto è dedicato ai giovani italiani con meno di 31 anni non compiuti e con un isè molto basso mentre il secondo è il bonus affitto dei comuni parliamo di quello dei giovani per avere diritto al bonus affitto bisogna risiedere nell'abitazione in locazione avere un ovviamente regolare contratto di affitto registrato quello all'agenzia delle entrate che vi dà un numero di protocollo parentesi non valgono i contratti di affitto quelli sulla parola quelli scritti su un papiro sul muro quelli non valgono valgono solo quelli registrati all'agenzia delle entrate e con un'età fino a 31 anni di età quindi si può ricevere richiedere solo per gli immobili nei quali è stata trasferita la residenza e dal 2022 la detrazione è prevista anche nel caso in cui la locazione riguardi solo una parte dell'immobile come per esempio una stanza e questo è molto molto importante vale solo per i primi quattro anni di durata del contratto di locazione quindi va bene anche per una stanza comunque deve essere per quattro anni per ricevere il bonus bisogna che l'intestatario del contratto di affitto invii la dichiarazione dei redditi all'agenzia delle entrate per ricevere la detrazione come sconto detto così si capisce proprio poco quindi tradotto in parole povere vuol dire che il bonus affitto viene rimborsato sotto forma di credito di imposta all'interno della dichiarazione dei redditi può essere modello 730 o il modello unico redditi poi abbiamo l'altro bonus affitto e cioè quello dei comuni questo bonus si può richiedere ai singoli comuni quindi parentesi non chiedetemi a me questo il mio comune di residenza è questo qui posso chiederlo fate prima a chiamarli così vi risolvete il problema o se vi viene più comodo potete guardare sul sito internet del comune oppure andare a chiedere al CAF che deve essere ovviamente vicino a dove abitate e all'interno di quel comune così almeno lo sa è così lo risolvete tutto il problema e comunque in questo caso si riceve invece un contributo per il pagamento dei canoni di affitto di solito e dico di solito perché poi ogni comune mette delle sue regole diverse delle sue scadenze diverse non è che sono tutti uguali e non è cioè ognuno gestisce le cose a modo suo non è una cosa a livello nazionale tipo l'inps che parla per tutta l'italia il comune parla per se stesso per ricevere il bonus affitto nella detrazione massima è comunque necessario avere un reddito inferiore ai 15.000 euro di regola di regola questo è l'importo del reddito di regola poi sono comuni più chiamiamoli ricchi sono comuni più chiamiamoli poveri non so senza discriminare nessuno però ci sono quelli che hanno una soglia di reddito pretendono e richiedono una soglia di reddito più alta invece altri che invece è molto più bassa ecco questo dipende dal comune e si potrebbe avere diritto un rimborso che arriverebbe addirittura alcuni comuni arriva fino a 495 euro quindi chiamate o il centralino del vostro comune di residenza o andate dal caf all'interno del comune di dove vivete e chiedete a loro che vi sapranno dire molto molto meglio cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione l'inps questa volta parliamo di in se lancia il nuovo servizio pensami pensione a misura che serve a simulare la pensione il servizio già disponibile anche sull'app in mobile e si può accedere anche tramite telefonino una parentesi apre una parentesi mi raccomando scaricate sempre solo l'applicazione originale dell'inps non scaricate applicazioni che non c'entrano niente con l'inps quindi quella originale e si chiama in mobile l'unica certificata dall'inps l'unica che avete la sicurezza quando inserite i vostri codici username codice fiscale e collegata direttamente con l'inps delle altre non ne sappiamo niente evitiamo problemi di privacy evitiamo di problemi di furto di eventuali furti di dati evitiamo tutti questi casini che poi lo sapete dovete correre a destra sinistra per carabinieri mi hanno rubato i dati mi hanno rubato la carta evitiamo questi casini usate solo quella dell'inps a questo servizio per poter accedere non servono le proprie credenziali quindi praticamente non c'è bisogno di nessun tipo di codice o di password alleluia alleluia ogni tanto un servizio che non richiede un codice o una password una volta aperta l'applicazione è inserita sia l'età anagrafica che sia quella anagrafica che quella contributiva il simulatore poi fornisce tutte le informazioni che riguardano la pensione o le pensioni a cui è possibile accedere inoltre il simulatore è già presente anche sul sito internet dell'inps e questo progetto è in pratica rientra in tutti quei vari progettoni vari del pnrr che in teoria cercano di dare più servizi agli utenti in maniera loro l'ha definita multicanale quindi a quanto pare sto pnrr ci vuole spingere tutti verso una tecnologia che vi piaccia o che non vi piaccia per concludere ve lo rinfresco mi raccomando scaricate solo l'applicazione originale dell'inps quando volete delle informazioni che riguardano pensioni bonus sociali pagamenti e non pagamenti utilizzate solo quella ufficiale cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione il reddito di cittadinanza è un sussidio statale quindi è un aiuto economico destinato alle famiglie che viene pagato attraverso una carta elettronica che si chiama carta di rdc in un vecchio video avevo detto che veniva pagato sulla carta poste pay non l'avessi mai detto era uscito un mezzo casino perché diceva la gente ma io non ho la carta poste pay come faccia ricevere rdc allora parentesi carta rdc passa tramite il gestore poste pay quindi rdc carta rdc o chiamala poste pay sempre quella rimane e che non è che cambia ecco detto questo questa carta rdc non chiamiamola poste pay viene messa direttamente dalle poste italiane che permette di acquistare dei beni e dei servizi di prima necessità per poter vivere vabbè poi lo sappiamo rdc ad oggi è sempre al centro della solità polemica del solito dibattito sarà cambiato lo mettono lo tolgono quando scade quando non scade ma diciamo che non è tanto di questo che voglio parlarvi con la carta rdc si possono fare prelievi di soldi contanti entro un limite mensili di 100 euro per nuclei familiari composti da un singolo individuo non entro nel merito di quanto aumenta in base alla scala perché sennò non riusciamo più vivi oppure oppure si può pagare usando anche direttamente la carta con il proprio codice pin si possono comprare tutti i tipi di alimenti visite mediche medicinali la mensa scolastica materiale scolastico bollette luce gas più tante altri tipi di spese tranne i beni o servizi non di prima necessità e gli acquisti online come ve lo dico sempre non fatemi domande assurde del tipo posso usare la carta per pagare il parrucchiere so parrucchiere mi è rimasto impresso allora il parrucchiere non è un servizio di prima necessità ok servizi di prima necessità e vi riporto quello che mi aveva detto la mia professoressa di economia alle superiori i servizi di prima necessità i beni o servizi di prima necessità so da mangiare le medicine ed eventualmente gli indumenti intimi tutto quello che non è di prima necessità che vi serve per vivere come parrucchiere non serve per vivere per tirare a campare non è una spesa di prima necessità quindi non fatemi domande di questo genere che che non hanno senso ma invece invece ecco tra le varie domande che ho ricevuto cosa faccio cosa non faccio una di un paio di queste sono molto molto interessanti così voglio parlare qui in questo video si può pagare l'affitto e la rata del mutuo beh allora sì l'affitto e la carta della rata del mutuo si possono pagare con la carta rdc quindi affitto e mutuo ok e invece per quanto riguarda le spese di condominio è qui c'è un bel domandone intanto sappiamo molto bene che le rate del condominio sono quelle spese abbastanza pesanti sappiamo benissimo da sopportare tutti i mesi e quindi usare diciamo la carta rdc effettivamente uno dice potrebbe portare un grosso aiuto a queste spese però di solito le spese condominiali sono comprensive anche di altre spese tipo la manutenzione ordinaria l'utenza della luce eventuali riscaldamenti per stanze di riunioni e quant'altro per chi ha quel tipo di spese e comunque anche tutte varie altre spese ulce che non so il giardiniere eccetera eccetera tutte spese ulce che servono al mantenimento dello stabile quindi ci sono due tesi in atto che che viaggiano su questo discorso qua la prima è questa da una parte visto che si possono pagare le utenze private quindi affitto e mutuo si può pensare che anche il condominio in realtà rientri in questo tipo di spesa tra l'altro considerando anche che sono spese proprio legate alla casa d'altra parte un'altra teoria proprio per quanto si può leggere sul sito internet di rdc che lo sapete www.redditocittadinanza.gov.it non è stata elencata la voce condominio e spese condominiali tra le varie spese che si possono pagare con la carta quindi a questo punto la risposta a questa domanda non è molto chiara quindi non si sa se si possa usare oppure no la carta rdc diciamo non è così immediata la risposta diciamo che insomma la risposta potrebbe essere di no però è anche vero che questa è una delle voci che diciamo sono state vietate che non sono state vietate e siccome questo argomento serve solo a informarvi io non emetto leggi non emetto decreti non legifero niente di allora cosa faccio vi do un consiglio quindi il consiglio dell'esperto a questo punto contattate o telefonate la sede in si di competenza più vicina a casa vostra oppure provate a telefonare il vostro caff di fiducia e poi dopo che siete riusciti ad avere una risposta me lo fate sapere anche a me qui sotto nei commenti così mi tenete aggiornato anche a me evitiamo discorsi strani del tipo è ma tu chiedi a noi si chiedo a voi perché questa è una community e come tale e come tale una mano lava l'altra ecco quindi voi date delle informazioni a me e io do delle informazioni a voi ovviamente se voi me ne date a me io riesco anche a informare a tutti gli altri che in quel momento stanno guardando il video quindi ci teniamo aggiornati tutti quanti diciamo che anche voi con il vostro aiuto e le vostre informazioni contribuite ad aiutare altre persone che si trovano in difficoltà bene se avete altre domande e dubbi come sempre prima di scrivermi ritornate indietro nel video riguardatevelo tutto vi fermate nei punti dove vi interessa vi prendete nota e poi eventualmente c'è qualcosa altro che non capite mi scrivete qui sotto nei commenti con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e poi seguitemi anche su instagram vi lascio qui sotto nella scheda del video il collegamento all'altro social così per fare prima a trovarmi basta che aprite la scheda e cliccate sul colgamento e andate direttamente sull'altro social con questo è tutto ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre solo sull'unico canale originale di youtube il mio a presto ciao 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 ciao